E' tempo di raccolta delle olive e proprio all'olio extravergine d'oliva siciliano e ai suoi impieghi è dedicata a Novellolio 2023, la manifestazione giunta alla settima edizione, ideata e organizzata dalla Proloco Cesaro Partinico APS con il patrocino della regione siciliana, con l'assessorato regionale attività produttive e il comune di Partinico. La location sarà la Real Cantina Borbonica di Partinico, che sarà il prestigioso e suggestivo palcoscenico dell'evento che andrà in onda dal 10 al 12 novembre. Saranno tre giorni dedicati all'olio made in Sicily, attraverso esperienze dirette, talk informativi e dibattiti sul suo impiego nonché sull'olio turismo, la nuova frontiera del turismo esperienzale che attraverso la visita di Ulivedi, Frantoi e Antichi Bai consente un approccio green al turista in cerco di esperienze di viaggio. Sulla falsa riga dell'ormai consolidato Wine Tourism. Non mancheranno corsi d'assaggio dell'olio e altre iniziative portate avanti dall'ordine degli agronomi, volta alla divulgazione di questo prezioso alimento, ma soprattutto con l'obiettivo di far conoscere l'olio anche ai siciliani, dando un valore e un peso specifico a uno degli ingredienti più importanti della cucina.